molto bene ci occupiamo ora del corpo nero e possiamo dire che da un punto di vista della storia della fisica il corpo nero ha rappresentato sostanzialmente un problema per la fisica classica perché la fisica classica non è in grado di spiegare il corpo nero ed è il primo vero problema che è stato risolto attraverso la teoria classica dei quanti va bene allora cerchiamo di introdurre questo corpo cercando di essere più generali allora noi possiamo considerare diciamo l'ambiente il quale è caratterizzato da una certa temperatura che possiamo indicare conti am temperatura ambiente e supponiamo che all'interno dell'ambiente ci sia un corpo solido denominato omega caratterizzato da una certa temperatura t allora che cosa succede succede che innanzitutto la temperatura è dovuta al moto di agitazione termica degli elettroni e quindi sostanzialmente il corpo emette radiazione termica sotto forma di onde elettromagnetiche quindi dal corpo vengono emesse delle onde elettromagnetiche in modo perfettamente analogo anche l'ambiente essendo caratterizzato dalla temperatura ambiente emetterà delle onde elettromagnetiche va bene allora che cosa succede quando la temperatura del corpo eguaglia la temperatura dell'ambiente si osserva che il ratio di emissione delle onde elettromagnetiche risulta essere perfettamente uguale al ratio di assorbimento delle onde elettromagnetiche a questo punto possiamo dare finalmente la definizione di corpo nero per corpo nero si intende un corpo capace di assorbire totalmente la radiazione ricevuta quindi questa è la definizione di corpo nero ecco vediamo adesso un teorema dovuto a kirchhoff quindi teorema di kirchhoff che sostanzialmente permette di individuare una funzione universale caratteristica del corpo nero indipendentemente da come è costituito più precisamente il teorema di kirchhoff dice questo dice che un corpo nero qualunque sia la sua natura emette allo stesso modo lo spettro delle onde elettromagnetiche e questa modalità di trasmissione dipende soltanto dalla temperatura in altre parole se noi andiamo a considerare il seguente oggetto rtni che viene anche chiamata radianza spettrale rappresenta l'energia assorbita nell'unità di tempo di aria e di frequenza da parte del corpo nero bene questa funzione non dipende assolutamente dalle caratteristiche del corpo nero e dipende essenzialmente dalla temperatura allora sperimentalmente diciamo gli sperimentali riuscirono a determinare la forma di questa funzione è un grafico di tipo a campana fatto in questo modo attenzione qui abbiamo il massimo quindi qui abbiamo la frequenza in ordinate abbiamo la radianza spettrale supponiamo che questa curva sia alla temperatura t primo disegniamo una curva a una temperatura più bassa va bene alla temperatura t quindi ripetiamo la curva di radianza spettrale una curva universale cioè non dipende dal particolare tipo di corpo nero e ha un andamento di questo tipo queste sono le curve sperimentali che vennero raccolte diciamo nella seconda metà dell'ottocento e naturalmente che cosa vediamo vediamo che il massimo si sposta a destra cioè sostanzialmente il massimo di radianza spettrale cresce con il crescere della temperatura e diciamo che questa è proprio quella che si chiama legge di spostamento di Vien della scissa del massimo della scissa del massimo della radianza spettrale va bene allora a questo punto cerchiamo di entrare in dettaglio perché appunto l'obiettivo della fisica è quello di spiegare diciamo l'andamento di queste curve cioè nel senso che la fisica sperimentale è in grado di determinare queste curve però poi la fisica teorica deve costruire un modello per dedurre dalle leggi fisiche note se è possibile oppure introdurre leggi fisiche ad hoc per spiegare queste curve sperimentali allora innanzitutto cerchiamo di capire come è possibile realizzare un corpo nero allora supponiamo di prendere un corpo di questo tipo dotato va bene di una cavità e supponiamo di praticare un piccolo foro in questa cavità allora cosa succede? Succede che le onde elettromagnetiche attraversano questo foro dopodiché colpiscono la cavità vengono continuamente riflesse e quindi questo che cosa vuol dire? vuol dire che diciamo queste onde elettromagnetiche entranti non possono mai più uscire dal corpo quindi questo vuol dire che il corpo è per definizione un corpo nero quindi abbiamo un esempio di corpo nero ora attenzione gli elettroni della cavità possono essere assimilati a degli oscillatori armonici che emettono appunto delle onde elettromagnetiche quindi attraverso questi oscillatori armonici il nostro corpo nero che si trova ad una certa temperatura T è in grado di emettere onde elettromagnetiche ora analizzando diciamo in dettaglio questo modello quindi diciamo mischiando un po' la termodinamica e l'elettromagnetismo che cosa è possibile fare? è possibile diciamo introdurre una funzione della temperatura e della frequenza che rappresenta l'energia emessa dalla cavità nell'unità di tempo, nell'unità di volume e nell'unità di frequenza e quello che si osserva è che questa funzione qui che è l'energia emessa risulta essere proporzionale alla RT ni quindi questo cosa significa? significa che i grafici di questa funzione relativa al corpo nero in funzione della frequenza al variare della temperatura sono delle curve a campana ecco, tuttavia però l'analisi del modello porta ad affermare che questa funzione ρT ni deve essere uguale a 8π ni al quadrato fratto c alla terza dell'energia media dell'oscillatore e adesso quale diventa il problema? il problema diventa quello di determinare l'espressione dell'energia media quella di andare a determinare il valore dell'energia media una volta che siamo in grado di determinare il valore dell'energia media dell'oscillatore allora siamo in grado di tracciare il grafico ρT in funzione di ni e vedere se questo grafico si sovrappone alle curve sperimentali poc'anzi indicate e allora quello che vediamo è il cosiddetto modello di Lord Rayleigh e in jeans quindi modello modello di Lord Rayleigh jeans allora attenzione io posso prendere l'energia come una variabile aleatoria continua va bene nella fisica classica l'energia è proprio una grandezza continua quindi prendo l'energia come una variabile aleatoria continua e nel modello di Lord Rayleigh e jeans attraverso naturalmente una serie di calcoli di applicazioni di leggi fisiche si trova la densità la funzione densità di energia che posso indicare in questo modo come f di di x se vogliamo uguale a e meno x fratto kb che è la costante di Boltzmann sulla temperatura ora questo termine kbt è legato diciamo al teorema di equipartizione dell'energia quindi alla termodinamica eccetera diviso che cosa l'integrale tra zero più infinito di e meno x fratto costante di Boltzmann per temperatura tutto quanto per dx quindi sostanzialmente questa è la funzione densità di probabilità legata all'energia che la nostra variabile aleatoria continua kb appunto è la costante di Boltzmann allora se le cose stanno così noi otteniamo l'espressione dell'energia media che è quella che stiamo andando a cercare come sostanzialmente l'integrale fra zero e più infinito stiamo determinando quello che si chiama il valore atteso della variabile aleatoria continua energia come l'integrale tra zero e più infinito dell'energia per la funzione densità di energia in d e allora lascio a voi diciamo la parte dei calcoli e da qui che cosa ottenete ricavate la costante di Boltzmann per la temperatura quindi adesso andiamo a prendere il valore dell'energia media e lo andiamo ad inserire qui dentro e che cosa otteniamo otteniamo l'espressione di ρt in funzione della frequenza e la chiamo rj in onore di relay jeans ed ha la seguente espressione 8π costante di Boltzmann per la temperatura diviso il cubo della velocità della luce per il quadrato della frequenza ora se andiamo a disegnare questa curva teorica in corrispondenza della curva sperimentale che cosa osserviamo osserviamo che la curva sperimentale alla temperatura t è fatta così attenzione qui metto ρt qui metto la frequenza mentre invece mentre invece la curva teorica di ρt rj ha un andamento di questo tipo perché è una parabola questa è la ρt fatemi dire sperimentale allora si vede come il modello di Lord Relay Engines è un modello capace di spiegare la curva sperimentale semplicemente alle basse frequenze va bene dopodiché però osserviamo un altro fatto importante che se noi andiamo a calcolare diciamo l'energia emessa dal corpo nero per unità di area per unità di volume eccetera che cosa otteniamo? otteniamo l'integrale fra 0 e più infinito alla temperatura t dobbiamo fare l'integrale fra 0 e più infinito di che cosa? della funzione rj in in di in è un calcolo banale porta direttamente ad avere più infinito va bene? quindi che cosa vuol dire? vuol dire che l'energia emessa da un corpo nero per unità di volume e unità di tempo risulta essere infinita e in questo consiste la cosiddetta catastrofe ultravioletta cioè nel senso che per i valori più alti della frequenza l'integrale diventa sostanzialmente divergente naturalmente il modello di relay engines inizia a far notare come la fisica classica quindi l'elettromagnetismo in particolare non è adeguato a descrivere il problema del corpo nero ecco c'è un altro tentativo classico che non vediamo che permette di descrivere sostanzialmente questa curva a campana per alti valori della frequenza mentre invece non è in grado di descrivere la curva a campana per i bassi valori di